Sono arrivati a 9 milioni gli allergici ai polli nella cosiddetta febbre da fieno che è tipica di questa stagione. Il problema è che sono aumentati in maniera clamorosa, vedete, 7 volte in 30 anni. Hanno cercato di spiegare perché e gli allergologi riuniti a congresso l'ha seguito per noi Francesco Magnani. Altro che mese delle rose, maggio oramai è diventato il periodo nero per chi soffre di allergia. L'aria e le strade si riempiono di pollini e il fazzoletto viene eletto accessorio indispensabile di stagione. Sono almeno 9 milioni gli italiani che in queste settimane avranno problemi di rinite, arrossamento degli occhi, se non addirittura di asma. Negli ultimi 30 anni le vittime dell'allergia sono cresciute di 7 volte. Erano il 4% negli anni 80, ora sono quasi il 30% di tutta la popolazione. Una vera e propria epidemia. Il grande aumento dell'allergia probabilmente è dovuto al fatto che siamo più protetti, che ci ammaliamo di meno. Questo fa sì che il nostro sistema immunitario se la prenda contro dei nemici, in questo caso gli allergeni, i pollini, le piante, il cane e il gatto, che non dovrebbero essere visti come tali, come nemici appunto. Anni di analisi su un numero sempre crescente di soggetti allergici hanno fatto scoprire che a seconda di dove viviamo ci sono fiori e piante che maggiormente indeboliscono il nostro fisico, in altre parole, regione che vai, allergeni che trovi. Ci sono differenze climatiche tra il nord e il sud, anche differenza di piante. Pensiamo per esempio che l'olivo, l'albero dell'olivo, può dar problemi nel centro-sud. Invece l'ambrosia, che è una piccola erbetta, un piccolo fiorellino, trova un clima più favorevole nelle regioni del nord e quindi lì dà più problemi di allergia. Vediamo dunque nel dettaglio questo atlante dei pollini. Al nord le più pericolose sono le graminacee, anche perché spesso provocano asma. Al centro, attenzione invece a querce e cupressacee, mentre al sud sono soprattutto le parietarie e gli olivi appunto a farci starnutire.